Ma a chi fa paura Antonio Conte? Ecco, proverò a rispondere a voi che vi siete iscritti a questo canale, che avete attivato la notifica. Se non l'avete ancora fatto, fatelo in fretta, perché è una domanda che mi accompagna da qualche giorno. A chi fa paura Antonio Conte? Insieme ad altre domande sulla Champions, sull'Europa League, su quello che si è visto e anche quello che non si è visto, e su quello a cui bisogna pensare e ripensare, considerando certi affari che adesso non vengono più raccontati, tipo Emre Can, eppure stiamo parlando di un giocatore che sarebbe no titolare di più nel centrocampo attuale della Juventus, ma parto da Antonio Conte, perché Antonio Conte è l'allenatore pieno di difetti. Io sono stato tra i pochi a dirlo, perché è uno che rompe con l'ambiente, è uno che vuole fare tutto di testa sua, è uno che vuole isolarsi, ed è uno che alla fine non gli va bene quello che ha, perché vuole sempre di più, e alla fine diventa non solo incontentabile per se stesso, ma non accontentabile da parte della società. D'accordo, primo ho detto difetti, ma poi ci sono anche tutti i pregi. Antonio Conte è uno che ti trasforma, la squadra, anche la società, secondo me, la tifoseria, l'empatia, il gruppo, però non lo vogliono. Il Napoli non lo vuole. Forse De Laurentiis, con un momento di permalosità, ci sarà rimasto male che quando l'ha chiamato d'inverno non ha voluto prendere la squadra a metà del percorso, può essere. Di sicuro adesso non lo vuole, dopo averlo corteggiato, e aver sentito che la proposta era di 7 milioni e mezzo di ingaggio per tre anni, quindi 7 per 3, 21, 22, 25, considerate con lo staff una trentina di milioni, ma Conte prendeva anche pieno possesso di tutte le strategie di mercato. A De Laurentiis questo non è andato bene, e allora si sta orientando su vecchi amori che fanno giri immensi e poi ritornano tipo quello di italiano. Al Milan Conte di fatto non è stato neanche mai consultato, perché? Anche lì, perché vuole uno stipendio importante, perché vuole fare il mercato, perché vuole incidere. Alla Juventus no, perché sarebbe comunque come mettere in discussione, in ombra anche Giuntoli, e poi ci sono anche mille problemi. Evidentemente ci sarebbe un importo da pagare alla voce allenatore straordinario, anche considerato l'ultimo anno di contratto di Allegri. Ma perché Antonio Conte fa paura? Cioè, non lo volete un allenatore che sistema tutto, anche se poi va via? Ecco, proprio questo è il punto. Secondo me Antonio Conte, se non il numero uno, il numero due, il numero tre, insomma un super, un top, però ha questo problema, che a questo momento della sua carriera, della sua traiettoria professionale, lo sta bloccando. perché i presidenti, un allenatore che non si accontenta, non lo vogliono. Non lo vogliono. Fanno bene o fanno male. L'allenatore deve essere meglio un'azienda lista, uno di società. Sì, ma Antonio Conte lo è. All'inizio lo è, poi dopo non lo è più. Però secondo me Conte è un valore aggiunto, non è un problema. Conte è una risorsa per una società, non è un handicap. Ecco, e in questo mi meraviglio molto, perché secondo me il fatto che Napoli e Milano abbiano in questo momento almeno dimenticato, mi sembra un errore. A proposito di errori, l'altra sera ho visto, mi sono fatto gli appunti, come i veri boomer, l'altra sera ho visto Emre Can, in Borussia Dortmund, Paris Saint Germain, su Amazon Prime, che è tutta un'altra cosa rispetto a Ebay, come Emre Can, è tutta un'altra cosa rispetto a Bentancur, o ai centricompisti attuali della Juventus. Io non capisco come la Juventus abbia potuto vendere un giocatore così. Questo di fatto sta prendendo il posto di Bellingham, parliamoci chiaro, nel Borussia Dortmund, lo sta portando, guidando, e la leadership è evidentissima in campo, e il Cross, Tony Cross ce l'avete presente? Ecco, Tony Cross gioca nel Real Madrid, lui, Emre Can gioca nel Borussia Dortmund, il livello è lo stesso. Ok? Adesso è, ovviamente. Comunque, ripensando alla sua esperienza alla Juventus, arrivò a parametro zero dal, con le commissioni naturalmente, dal Liverpool, e poi venne venduto perché i titolari erano, se non sbaglio, che di Rapiani c'è Matuidi, e il quarto centrocampista Bentancur. No, tutto sbagliato, tutto da rifare, Emre Can non era, offriva una qualità, una quantità nettamente superiori. E infatti, e infatti, se adesso provate a immaginare, Emre Can nel centrocampo attuale la Juventus, con tutto il rispetto, per Mekenni, Toccatelli, e anche Rabiot, Emre Can giocherebbe titolarissimo in questa Juventus, segno che la qualità alla Juve è diminuita col passare del tempo. A proposito, ho nominato prima Bellingham, visto che Bellingham è calato il rendimento, sapete perché? Perché è stato dominante nella prima parte di stagione, e poi sta avendo un calo. Sapete perché, ripeto la domanda, perché è giovane, perché è 2003, perché i giovani non hanno la costanza di rendimento dei 25 anni. Questo lo dovete capire e tutti quelli che dicono che basta mettere i giovani dovrebbero fare un minimo, un esame di coscienza. Bellingham è un futuro pallone d'oro, del resto ha vinto un premio non banale, il Golden Boy di Tutto Sport pochi mesi fa, quindi è un futuro pallone d'oro, però in questo momento sta brillando un po' meno, perché quando hai 20 anni, 21, fino a 22 anni, la continuità di rendimento non c'è quella che poi dopo si verifica da 25 anni in poi. Rendetevene conto, lo dico per i tifosi juventini che pensano a Sulea, a Wiesen, a Hildiz, eccetera, lo dico per i milanisti che un giorno pensavano che Camarda potesse giocare titolare nel Milan, quindi lasciamo perdere, lo dico per tutti quanti i tifosi, non lo dico soltanto per quelli del Real Madrid, che infatti di mettere in discussione Beningham, non ci pensano neanche lontanamente. Allora, altro appunto, a cavallo tra le semifinali di Champions League, così c'è il grandissimo rischio che peraltro mi prendo volentieri di essere smentito, Kim è la brutta copia di quello che si era visto a Napoli, ma tutto il Napoli era diverso. Poi appena finita la bolla scudetto di Luciano Spalletti, questa enclave in cui magicamente tutto andava bene e tutti rendevano al 110%, sono ritornati i giocatori con il loro rendimento. E Kim non fa eccezione, sembra che il virus post scudetto sia passato da Napoli fino a Monaco di Baviera. È un giocatore ancora grezzo, un difensore forte fisicamente, tecnicamente un po' grezzo, che con la linea del fuorigioco va in difficoltà, che probabilmente ha anche difficoltà d'ambientamento, questo è un coreano che in tre anni è passato da Turchia, Italia e Germania, avrà anche problemi d'ambientamento, di lingua, ecco, si vede, si vede in campo, anche se poi quando giochi contro Vinicius chiunque passa un brutto quarto d'ora e gli è toccato questa volta a Kim. Di sicuro, ripensando ai colpi di giunto e ai tempi del Napoli, a me sembra, vedendolo adesso, che Kim sia stato più un colpo venderlo a 50 milioni, che non acquistarlo, perché 50 milioni Kim, insomma, c'è da riflettere. 50 milioni più o meno sarà anche lo stipendio che prenderà Mbappé al Real Madrid, ora, milione più, milione meno. Vediamo, se fra qualche giorno questo video verrà confermato, la mia impressione, che come sapete sono il re dei pronostici sbagliati, e che si va verso la finale tra Paris Saint Germain e Real Madrid, e quindi Mbappé giocherebbe l'ultima partita con il Paris Saint Germain in finale di Champions League contro la squadra del suo immediato futuro, con cui giocherebbe poi la partita immediatamente successiva, se non ci fossero di mezzo gli europei, un po' come cuscinetto e ammortizzatore per stemperare un trasferimento che indubbiamente fa storia, fa polemica e renderà la finale di Champions League, se sarà quella assolutamente indimenticabile. Ultimo appunto, a me piacciono tanti i confronti, mi piace anche immaginare il talento dei giocatori, la loro carriera, in Roma Bayer Leverkusen, tutti parlano di Xabi Alonso, l'allenatore, che è bravo, tutti parlano di Daniele De Rossi, che se l'è giocata, sicuramente, tutti parlano dell'ambiente, tutti parlano della traversa di Lukaku, del gol sbagliato alla fine, eccetera, ragazzi, un fenomeno, Birz, 2003, Bayer Leverkusen, Birz, 2003, è già adesso meglio di Dybala, ma non c'è paragone con Dybala, poi magari è stato un abbaglio nella notte di Roma dell'Olimpico, vediamo al ritorno, ma per me, già adesso, questo è un numero 10 di altissimo livello e vedrete che farà con la Germania all'Europeo.